Trovati a questo primo appuntamento con la piazza e proprio in piazza abbiamo chiamato i candidati a sindaco, questa volta per il comune di Cortona. È una sfida a 5, quella per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale nel comune di Cortona, Valdichiana, Aretina. Uno dei comuni dell'Aretino che va al voto e che superando i 15.000 abitanti potrebbe andare al ballottaggio. Si vota il prossimo 8 e 9 giugno, si contenderanno la poltrona di primo cittadino appunto in 5 candidati, in un clima non proprio sereno. Il sindaco uscente, Luciano Meoni, si presenta con la lista futuro per Cortona, ma a differenza di 5 anni fa non ha il sostegno dei partiti del centrodestra, nemmeno della Lega. Il candidato del centrodestra è invece Nicola Carini che nella legislatura uscente ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio Comunale. Credo che una cosa siano i partiti nazionali, i partiti nazionali con i quali ho rapporti giornalieri, sento giornalmente onorevoli di Fratelli d'Italia, di Lega, di Forza Italia, quindi con me hanno rapporti tutti. Dopodiché i personalismi locali certamente sono rimasto male perché evidentemente la Lega che era stata a fianco nostro sin dalla prima ora portando avanti progetti importanti, riuscendo ad essere determinanti anche nel 2019 quando abbiamo ottenuto un ottimo risultato, beh, questo certamente non sono un'ipocrita, sì, però non è che... Però si va avanti lo stesso. Si va avanti e sicuramente ne vedremo delle belle, sono convinto, il 9 giugno. Anche a sinistra non c'è una piena unità, il centro-sinistra, il Partito Democratico, il resto della coalizione, socialisti compresi e i 5 Stelle, sono con Andrea Vignini, già sindaco di Cortona. Ma c'è una candidata, Verusca Castellani, che si presenta con la lista Uniti a Sinistra e infine c'è Italia Viva con Sara Baldetti. Io non capisco chi sono questi che sono uniti, me lo dovrà spiegare prima o poi Verusca, perché i partiti della sinistra e del centro-sinistra, forse Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, non so chi altro, perché i Verdi non ci sono, Sinistra Italiana non c'è, verranno in campagna elettorale a sostenere la mia candidatura. E intanto quindi qui c'è una ambiguità, lo voglio dire con delicatezza, che deve essere sciolta. Nel primo confronto, registrato negli studi di Arezzo TV e condotto da Carlo Gabellini, è stata la sanità, il tema sul quale i candidati si sono scaldati di più. Ma la battaglia è appena all'inizio. La trasmissione integrale andrà in onda venerdì 5 aprile alle 21 su Arezzo TV, canale 81 del Digitale Terrestre. Tutto quello che è stata la politica del PD negli ultimi anni, parliamo per esempio di sanità, un tema a me caro, la sanità, soprattutto in Toscana, è stata quella di depotenziare tutti gli ospedali del nostro territorio. E questa è stata una politica, che ci piaccia o no, del PD. Gli interventi da fare sicuramente sono importanti, cioè da mettersi a sedere con il Consiglio dei Sindaci e fare un task force, in regione con il responsabile ASL. No, perché poi alla fine capisco che chi è stato e chi non è stato a questo punto, proponiamo qual è il progetto. Operazioni intensive e mirate ad incontri per raggiungere degli obiettivi. I problemi strutturali di una rianimazione non li risolviamo per i costi che ha sicuramente, però ci proviamo a risolverli, perché quel pronto soccorso deve essere operativo per tre comuni, quindi deve essere funzionale al 100%. Perché signori, quando andiamo al pronto soccorso non è che ci chiedono la testa del partito. Fortunatamente. Fortunatamente, ma dobbiamo essere sicuri che da quel pronto soccorso verremo smistati nella zona che ci potrà curare meglio, ma sicuramente dobbiamo uscire dal pronto soccorso con le nostre gambe e in maniera efficace ed efficiente, cosa che qualche volta è successo alcuni episodi, non stiamo qui a scendere nei particolari, dove però c'è stata questa difficoltà. Quindi credo che il pronto soccorso sia la chiave dell'ospedale della Fratto. Fermiamoci un attimo per la pubblicità, torneremo subito dopo. Meoni si è subito presentato per parlare del pronto soccorso.